Mentre ero in bagno mi ha venuto in mente una canzone Eh Vado? Vado Tettina nera Vega punchina Aspetta e spera che lo scienziata s'avvicina Quando saremo lì su Heged E quella sì, l'isola del futuro le... Eh! Eh, perfetto Ta-na-na-na-na, sigla, vai Tettina nera Comunque è arrivato a tutti noi partner di Twitch Una mail incredibile ieri Gabriele Testimone, non stiamo scherzando Ovvero da oggi finalmente saluto Romano Libero E anche N-word permessa Eh, devi dirla, se da oggi è permessa io ti sfido Ti sfido a urlare Bene, allora, capitolo 1061 di One Piece Eh, un capitolo molto interessante Molto bello Eh, divertentissimo Io ci sono divertito proprio come, eh, un bambino Siamo tornati a 15 anni fa Mi è sembrato di essere tornato Quando loro arrivano davanti alla Red Line Dopo Thriller Bark, no? I momenti lì Mi è sembrato di tornare quando c'era lui Quando c'era lui Eciro Oda Eciro Oda Eciro Oda Chiaramente Eh, quando c'era lui Eciro Oda E... I capitoli arrivavano Fino a... Tutti i lunedì Per fortuna ci sta qui Sì C'è il nostro amico Diego Armando Mara Dand Che chiede se possiamo salutare i suoi amici Ciao amici Diego Ciao amici Io ormai una volta che saluto con la mano Mi sembro di fare gesti che teoricamente non si possono fare No, però Sono d'accordo È stato veramente un capitolo che ci ha fatto tornare Io mi sono sentito bambino Mi è sembrato di leggere Il One Piece con cui è iniziato Il One Piece che mi ha cresciuto Il One Piece che un pochino tutti un po' rimpiangono in realtà Il One Piece di cui tutti spesso dicono Ma non è più il One Piece di una volta Quello fatto di azioni avventurate Letteralmente in questo caso Ed è stato proprio bello Bello vedere le interazioni dei Mugiwara Bello vedere le scene con i robottoni Bello lo squalone totale tombale Bello il robottone Che sembrava veramente gigante di ferro Bella Vegapunk Che è lui, non è lui Lui è una lei Lei è un lui Lui è una lei Ezio Greggio Bello vedere Bonney Per la gioia Chiaramente di quelli che si sono messi a fare i pippettoni Perché tanto lo sappiamo Vi conosciamo bene E quindi Una mezza schiena Una mezza tetta Cioè Fidati Ci faranno le action figures apposta per i malatoni Se ci vedi c'è anche quella puntina di piedino anime Vero Vero Ed è stato veramente una roba divertentissima Un sacco di gag Un sacco di momenti folli Un sacco di momenti belli E adesso c'è un hype smisurato Sono molto curioso Sono Cioè Non sapevo cosa aspettarmi L'hype a scattafasci Perfetto Non sapevo cosa aspettarmi da questa nuova saga Temevo L'arrivo a quella merda di Sphinx Invece no Meno male Meno male E Cacchio Siamo già in media stress No Quasi come se Se Oda Stesse dicendoci We We Siamo arrivati Dai Sì Oda Oda sta dicendo Ve l'abbiamo fatto aspettare Per 13 anni Di più Per 14 anni 14 anni Dal 2008 Adesso è venuto il momento Di mostrare No Non ve lo faccio non vedere Faccio vedere una bella donnina Forse anche di più Perché quando è stato in News Lobby Almeno 16 2006 Eh Hai ragione 2006 E quindi Sì 16 anni Eh Un bel po' 2006 E che bello Bene 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 Ci sono Parle che cose Che soltanto Dove essere L'attenzione Siamo diventati vecchi Insieme a One Piece E non ce ne siamo accorti O meglio Me ne sono accorto Però Il tempo è passato Ti accorgi dai dolori No Gli stricchioli Ti accorgi dai dolori Io però Tra Tre settimane Più o meno Faccio 38 anni C'ho ancora i brufoli Ma chi io Io C'ho ancora l'acne Giovanni Ma è normale avere i brufoli A questa età Non lo so Escono fuori Come un ragazzino Però È il fanciullino Che esce fuori Che cosa Tu ti aspettavi Questa roba qui No No Per niente Mi aspettavo Cioè mi aspettavo Mi aspettavo un cazzo Però Credevo che saremmo andati A parare ancora Contro Weevil Visto che non è ancora Apparso No Quindi mi aspettavo Che tenendoselo così stretto Lo avesse poi In serbo Per la prossima puntata Invece no Invece no Invece no Questo Potrebbe essere anche Il sintomo Del fatto che effettivamente Oda ha detto Basta bisogna finirla qua Nel vostro più di questo fumetto Di merda Però Vedi com'è interessante Una sorta di parallelismo Perché Pancazzar Da tutto sommato Ha fatto Diciamo Da Proemio Alla saga Del nuovo mondo Vero E adesso L'isola del futuro Fa da Proemio Al finale di One Piece Vero Vero Molto bello Molto 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 bello E Io mi aspetto A questo punto Per una saga Molto veloce Molto agile Proprio giusto 20 25 Capitoli Quel paio di volumi Alla zoo No Quel paio di volumi Alla zoo Pieno di roba Con Vegapunk Che magari ci Ci spiega effettivamente Come funzionano i frutti Del diavolo Con lui che sta lì Ad armeggiare Da vecchino Da vecchietto E con Ecco Secondo te No Poi ne abbiamo parlato Tutti Tutti Lei Chi è Che è Un robot Un clone Una roba randomica Che cos'è Potrebbe essere Tutto Un Con due meloni Un avatar Potrebbe essere Un android Un cyborg Un clone Sarebbe interessante Se fosse un clone E quindi Potremmo veramente Andare a parare Sul discorso Che faceva Qualche anno Fa il mala Sul fatto che Yamato Fosse davvero Il figlio di Kaido Ma il figlio letterale Nel senso proprio Preso, copiato E clonato Da parte di Un Vegapunk E quel di Punk Hazard E il fatto che Non sia qui Magari potrebbe Anche essere Quell'indizio Che ci può portare In quella direzione Però ovviamente Si sta Volando molto alto Molto alto E tra l'altro Poi Mi è piaciuto D'altro Perché poi Sono uscite fuori Chiaramente Subito queste Le diatribe Oddio Finalmente questa Sarà la saga Di Frenkie Cosa che ci auguriamo Tutti Almeno Non so tu Io me lo auguro Tantissimo Come quella di Zoro Come quella di Zoro Chiaramente Però Ho veramente Goduto Nel vedere Che ecco Il robottone Gigante di ferro È veramente Frato cugino Di Frenkie È uguale Però qui Bisognerebbe Un attimo Fermarsi Perché Frenkie Certe cose Le ha sempre fatte Da solo Che richiamano Quello che faceva Vegapunk Prima che lui Andasse su Bargimoa E il fatto Che in realtà Il robottone Di Frenkie Sia uguale Al robottone Di Vegapunk Perché poi Frenkie Ha Studiato Le carte Di Vegapunk Però la stella Perché Franchi È tornato Indietro Nel tempo Ed è Ed è Vegapunk Pensateci Pensateci E quindi Si spiega Perché lui È avanti 500 anni Nel futuro Perché lui È tornato Indietro Di 500 anni È ripartito Praticamente Lui adesso È un Franchi Super vecchio Ma ormai È talmente Robotizzato E digitalizzato Che non Invecchia più E poiché Lui ha visto Il futuro Ha deciso Di fare Ha visto il passato Ha visto il passato E quindi È un uomo Che teoricamente Ha vissuto nel futuro Esatto Possiamo dire così Esatto E si capisce Perché Vegapunk Adesso Ha due meloni Perfetto Perfetto Esatto Come dice Tra l'altro È interessante Sai che Sai che Sai che Sanji Quando c'è La gnagna In giro C'è sempre Il radar gnagnoso No Persino Bonnie Che nell'acqua Lui riconosce Che è una ladies E quando Invece Questa Apre lo sportellone E scende E lui dice Qualcuno Sta uscendo Cioè Non sento Il profumo Della gnagna Eh ma Perché Allora Spieghiamo un attimo Questa cosa E quando Vegapunk Parla In giappone Dal giapponese Solo 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 Se leggi Il video Solo Se leggi Il capitolo In giapponese Puoi capire Che Oda Ha svelato tutto Il saluto Il nostro Riguaiato E Si capisce Che In realtà Lui parla In una maniera Molto Sbiascicata Tipicamente Da vecchio Da vecchio Nei manga Nei manga In realtà Non lo fanno Non è che Però Nei manga È tipico Negli anziani Aggiungere Questi Questi Già Questi Washi Che sono Dei tipi Che Voglio un attimo Rispondere a questa cosa Al nostro amico Ares Hai mai pensato Di affiancare Una figura Della Meloni A una di Salvini Accanto a quella Di Berlusconi Io potrei aprire Potrei No Io potrei No 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 Io potrei aprire In questo caso Un goal Di donazioni Per comprare Il cartonato Di Meloni E Salvini Per l'accanto a Berlusconi E Pensiamoci Pensateci Lo faccio Non ho problemi Tanto ormai E qui Siamo Come dire Siamo Come dire In fascia In fascia In fascia Protetta E quindi E E Compara anche Dudu Così fai copia Con dolo Abbiamo tutti quanti Assolutamente Assolutamente In fascia Si si chiede Ormai tutti in chat Siamo diventati così E Cosa ti aspetti Dai Perché qui È veramente Io non so Cioè Bonnie è andata lì Chiaramente Pecuma Diciamoci la verità Lei è andata lì Perché Lei dice Che lei ha Degli affari In sospeso Con lui Cioè Deve fargliela pagare Per qualcosa Sostanzialmente Lei dice a Rufy Tu sai Cosa Cosa teorizzai Qualche anno fa Ovvero Del fatto che Lei Che sia madre o figlia Poi lo scopriremo Comunque Lei ce l'ha morta Con lui Perché Gli ha rovinato Hai detto Madre Donna Cristiana No Pensaci 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 Io sono Bonnie Sono La madre Sono Una Donna Sono Una Supernova Basta Questa è l'ultima Che facciamo Basta Dobbiamo esorcizzare Chiaramente Sì Gabriele E quindi Lei ce l'ha veramente A morte con Vegapunk Per la questione Orso Giustamente Quindi io ti posso dire Cosa mi aspetto Diciamo Ma è figlio È figlio Genitore 1 Genitore 2 È 2 Perché c'ha 2 No Vedi Stasera ormai Bene Sì Io sul lungo termine Mi aspetto Quanto meno Che Se questa è la Punk 01 Ci possa Eserci un Punk 01 In giro Che magari Incroceranno Rufy E Bonnie E quant'altro Lei non Riconoscerà Vegapunk In questa figura Quindi cominceremo Un po' A usare il discorso Dei Cloni O Di quello che saranno E poi ci sarà Un faccia a faccia Dove noi Inizialmente Penseremo che Vegapunk Possa essere cattivo Poi si spiegheranno E quindi poi Arriveranno A comprendere Effettivamente Che figura è Vegapunk In tutto questo Quadro generale Del discorso Perché è molto grigio Dal punto di vista Di posizione Qua dice Io sono Lavoro per il governo Quindi comunque Sono un governativo E non vi ho salvati Pirati Però Prima dice Però io con lo squalo Volevo rubarvi i soldi E le merci Dalle navi Cioè È un po' È un po' Un po' È un po' Borderline È un po' Borderline Senti c'era Volevo parlare Un attimo Con te Perché Secondo me È una cosa Che forse passava Un po' In In sordina Ma che Io ho trovato Molto interessante Perché quelle due tavole Diciamo del G14 Dove Oda Veramente ci ha messo Di tutto il contrario Di tutto Ci ha messo i bambini Che effettivamente Si stanno rimpicciolendo Grazie a Vegapunk Capiamo Il fatto che il G14 Sia vicino All'isola del futuro E il fatto che A parte siano tutti Della Sward Ormai Ormai c'è stata una Svendita Della Sward Adesso sono tutti Della Sward Chiaramente Erano segreti Adesso sono tutti Rivelati Tutti i membri Della Sward Però ho trovato interessante La parte Che dicono No no Andiamo sull'isola Del futuro Prendiamoci di Serafini Andiamo Sull'isola di Barbanera E facciamogli il culo La domanda è Queste cose A questo punto Collimeranno Perché è vero Che Il comandante Lì Della Sward Ha detto No no Ma noi se andiamo Ci fanno il culo Così assolutamente no Però Non credo Che lasceranno Il povero Kobe Da solo Per i fatti loro Nonostante tutto Ermeppo Ormai è diventato Un marizzo di cuore Io sarebbe interessante Vederli Tutti loro Su Haghead A questo punto Ma io Io mi immagino Che magari Ermeppo Possa andare da solo Su Haghead Per cercare di parlare Con Vegapunk Per ottenere Questi Serafini E appunto Qui Rufy scoprirà Che fine ha fatto Kobe Potrebbe essere Un pretesto Per poi muoverlo Contro Ticci Ad esempio C'è C'è da capire Perché il discorso Che faceva Con Zoro Con Vivi Se si può Anche Attaccare Con Kobe Cioè Vivi Non si sa Dov'è Quindi punto di domanda Kobe sai Che è in mano A Barba Nera E Zoro E Rufy Comunque hanno Un legame Con Kobe Vuoi o non vuoi C'è da capire C'è da capire Sì Per il resto Diciamo che È forse Ecco Come capitolo Introduttivo Un capitolo Guilty pleasure Diciamoci la verità È veramente Fatto Per Ringraziarsi Il lettore E arrivo a dire Anche una cosa Per ringraziarsi Quello che One Piece Forse non ha mai letto Se iniziassi a leggere One Piece Da qui Chiaramente ti manca Tutto One Piece Però Lo riusciresti Più o meno A seguire Secondo me Cioè Chiaramente Non sai Chi sono i personaggi Non sanno Chi sono i protagonisti Però È come se fosse Una sorta di starting point Sì Perché comunque Uscendo da quattro anni Da questo arroccamento In quest'isola Ora sei Nuovo Alla merced Dello sconosciuto Non sai dove andiamo a finire Dove andiamo a parare E cosa ne pensi Del fatto che Li addivisi Subito Di nuovo Noi penso Li volevamo vedere Tutti insieme Ma quello è scontato Ma quello Non li può gestire Tutti e dieci insieme Però non è un peccato No A me piace Cioè va bene In senso Alla fine Usando Sempre questo archetipo Di fare due posti Uno di qua Uno di là Ti fa vedere Diverse Diverse situazioni Tutte insieme Sì Però Secondo me Ci sarebbe Stato Almeno Cioè L'avrei voluto Almeno un paio Di capitoli Tutti insieme Fatti solo di cazzate Totalmente di cazzate Di stupidaggi Come in realtà Poi abbiamo visto Spizzichi e mozzichi Però sarà che Ecco Come hai detto tu Ci dovevamo Disintossicare Un po' da Wano E effettivamente Questa roba Non la vedevamo Dall'inizio Del post time skip E A parte che Ci è mancato a tutti Però già solo vedere Delle piccole Interazioni Tra tutti loro A me mi ha proprio Allargato il cuore Quindi poi Vederli di nuovo Tutti divisi E poi Si rincroceranno Si rincroceranno Come dice il nostro Amico Holiday Sono d'accordo Avevo bisogno Di un filler Lo dico Perché poi Quelle poche tavole Nei quali Sono stati Tutti a contatto Tra loro Che comunque Ci hanno dato Dei momenti Molto importanti Della macro Della macro L'ideologia Del mondo Di One Piece Con le taglie Eccetera Sono stati davvero Un toccasana Ma anche proprio Le prime tavole iniziali Con loro Sulla nave Arriva lo squalone Loro che cercano Di capire cosa fare Davvero Mi hanno dato Quei feels Come da vecchio lettore Ragazzi Qua veramente Siamo vecchi Siamo fatti vecchi A pressa One Piece Voi Voi potete anche Non crederci Ma guardate Che qua Ormai Sul serio Sono passati Quasi vent'anni Sono passati vent'anni Non quasi A pressa Sto cazzo di fumetto Barba bianca Eravamo alti così E quindi Quando rivedi Certe cose Ti sembra davvero Di tornare indietro nel tempo È così Davvero Sì È così È così È così E comunque Oda criminale Ha fatto la pausa In questo momento No 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 Quella ci sta Dai Un attimino Ti dà questo Questo cliffhangerone Finale E tu sei lì Che fremi Di capire Che cosa sarà E poi nel prossimo Non comincerà da qua Ovviamente Perché Perché lo fa sempre Questo Beh sì Inizierà dall'altra Inizierà da quelli Che non hanno incontrato Vegapunk Dove siamo Capiamo Cosa facciamo Se sono con lei Stanno camminando Già verso l'interno E lei gli ha già raccontato Qualcosa Che scopriremo dopo Chiaramente Alla fine saga Alla fine saga Alla fine saga No perché poi ci ha raccontato Ma quando lo sa Farà 30 capitoli L'anno prossimo Quindi prepariamoci un anno Insieme a Dottor Vegapunk Siamo tutti Tutti contenti Tra l'altro Ed è magari una piccola finezza Che io però Ho odiato L'avrei voluto Vedere subito L'isola del futuro Diciamo da fuori Con Quell'uovo Che è una sorta Poi di atomo Sembrano proprio Quelle cose In stile Anni 20 Anni 30 Che sembrano futuristiche Sai no C'è presente il Daily Planet Dove c'è Il A me ricordo C'era un po' di Cuppetiel Sì Perché si sostiene Col Cuppetiel Però Con questo anello Saturnino Che gli gira intorno Quindi poi bisogna Un attimo capire Però L'avrei voluto Vedere subito Ma per me L'ho fatto Un po' apposta Perché comunque Questo vapore Nasconde qualcosa Evidentemente A me piace pensare Che Siccome loro sono arrivati Con questa tormenta di neve Nami diceva Che era un'isola Climatica invernale Con clima invernale Quindi ho più Il massimo estremo Dell'inverno Nelle 16 stagioni Che compongono La Grand Line E poi arrivi E invece c'è un'isola Pagliente Tropicale Ci sono le palme La gente Sai cosa mi ha scritto La gente Mentre stavo facendo La blind Cioè dopo Mentre chiedono Ottio ma sembra L'isola dove Barba Bianca E Roger Si sono scontrati Perché era un'isola estiva Con le palme Era molto simile Sì sì ho capito Capito Ma io ho detto No vabbè Ci sono le palme A parte che queste Sembrano fatte di ferro Queste tipo Sembra che abbiano Le placche Intorno ai palmetti Però ecco Il discorso è Che siccome Dovebbe essere invernale E invece è Palesemente Un'isola Non so estiva Con tanto di palme E quant'altro Per me lui è riuscito A fare quello Che voleva fare A Vargimoa Di fare quel sistema Di riscaldamento Se ti ricordi Che era poi Che Franchi Ha fatto esplodere Con laboratori Ecco per me Lui è riuscito Quindi questo è vapore Acqua Perché il clima Dell'isola È artificiale E quindi Sendoci freddo Lì si fa Questa colpe Vaporosa Che copre Letteralmente L'isola Dalla visione Tra l'altro Cosa ne pensi Del fatto Che lui Fondamentalmente Dica Tutto sommato Che È un fallimento Non che è un fallimento Come scienziato Però lui Si dia meno Crediti Di quanto In realtà Non ne abbia A me ricorda Sempre Doc Brown Scusa Non posso farlo In scala Il modellino Io penso sempre A quella cosa lì Quando gli fa vedere Tutta la città Col treno Perdonami Ma non sono riuscito A farlo A scala Mi dà Quella idea Di essere Quel classico Scienziato Che Non ha mai Non riesce mai A pagarsi Perché vuole Sempre di più Vuole sempre di più Vuole sempre di più Perché la ricerca Non ha mai fine E quindi Anche una cosa Che per noi È straordinaria Come avere Sì riusciti Magari a riprogrammare Un essere vivente Renderlo un androide E quant'altro Per lui Quella pecca È una macchia Sul curriculum E quindi Qua potremmo andare Tipo i doppini E quindi Potremmo andare Sul discorso Del frutto Di Momonosuke Che a questo punto Potrebbe essere davvero Il fatto che fosse rosa No? Come tanto abbiamo Scherzato negli anni Perché il frutto è perfetto Solo che non è un Seiryu Ma è un Momoryu Un dragon Davoroso Assolutamente Ma per esempio Anche tutto il discorso Lui fa Sullo squalo Meccanico Sullo squalo E dice Mio Dio Un fallimento Perché io gli avevo dato Come istruzione Solo quello di Andare in giro Riportare Quello che sta succedendo Fare Pattugliamento E poi solo dopo Nel caso attaccare E invece quello C'ha fame Se magna le navi E in realtà Però Non è un fallimento Quello È davvero Dal mio punto di vista Chiaramente In realtà Lo dice anche lui È comunque Una grande conquista Perché lo squalo C'ha l'autocoscienza Ragiona da squalo E lui È quello che Lui Poi noi diciamo Lui ma lei In questo caso È quello che vuole Togliere allo squalo Cioè Se noi guardiamo Anche i pacifista Di orso Loro hanno Sono nichiliti Cioè loro sono Sono lobotomizzati Sostanzialmente E probabilmente Con le creature animali Questa cosa È difficile invece Da soggiogare Perché viene L'istinto Cosa che all'uomo Manca Noi l'istinto L'abbiamo perso Acquisendo coscienza E acquisendo poi La consapevolezza Di ciò che siamo E ciò che ci circonda Gli animali Invece loro Sigono l'istinto Basta pensare Agli uccelli Che volano Dalla parte alta Al mondo Anche dormendo E volano lo stesso Cioè Quindi qua Entrano in campo Cose che vanno Ben al di là Della scena Della meccanica Però Cioè A me è piaciuto Proprio Questa piccola cosa Perché poi In realtà Da un certo punto Di vista Qui Magari Ci vorrebbe Davvero Alche esperto Di questa roba qui Non sono un esperto Quindi Prendete con le molle Quello che vi sto per dire Di solito Quando si parla Comunque di robotica Oppure quando si parla Di Intelligenze artificiali Diciamo che Ecco La paura Che un'intelligenza artificiale Possa acquisire L'autocoscienza C'è Però in realtà Molti scienziati Sarebbero molto curiosi Alcuni li sviluppano Queste intelligenze artificiali Proprio per sviluppare Una sorta Di autocoscienza Penso per esempio A quei sistemi Che ti permettono Di giocare A scacchi Che imparano Ogni volta Oppure Il gioco del go Che è ancora più difficile Invece il fatto Che Vegapunk Pensa che Quella sia Un difetto Io la trovo Veramente Una sorta di ribaltamento Perché essendo lui Avanti 500 anni Il fatto che Una sua creazione Non faccia esattamente Quello che dica lui Non va bene No esatto Non è contemplabile È molto bello Infatti mi piaceva L'idea Che questo Questo gap Di questo non controllo Potrebbe essere La chiave di volta Per Magari I serafini Che hanno Qualcosa Che si ribellano Cioè Però pensiamo appunto Ai pacifista primari Che questo Questo gap Non lo avevano Ad esempio Quindi magari I serafini Sono effettivamente Completamente Asservati Serviti alla marina Al governo Però mi piacerebbe Che ci potesse essere Questo momento Di rivalsa Delle macchine Dei cloni O quant'altro Vediamo Vediamo Mi piace questa Questo punto di vista Nel nostro amico Silverstone Che dice Quella frase Secondo me Fa capire Che lui è un cattivo Senza ritegno Della vita umana E della vita animale È una bella È Un bel punto di vista Secondo me Lo è Ma perché Comunque La scienza È sempre Grigia Basti pensare Alla genetica Attuale Le sperimentazioni Sugli embrioni Noi sappiamo Soltanto La punta Dell'icever Di quello Che davvero Fanno I genetisti Nei loro Laboratori Io ho letto Di quegli esperimenti Che incrociano Gli embrioni Dei maiali Con Le cellule umane Per replicare La pelle Per poi Infiantare Nei tumori E queste sono Chiaramente Quelli un pochino Più Più tranquilli Come esperimenti Ma io sono sicuro Che fanno Mostruosità Però Tu che sei Scienziato E puoi Effettivamente Fare il dio Con queste cose Non lo fai Cioè Secondo me Quando poi Entri in certi campi L'etica va a farsi Benedire Cioè Per la sperimentazione Per la scienza E per la progressione Poi del genere umano Vai 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 Te ne freghi Non sei cattivo Sei semplicemente Super partes Secondo me Diciamo che Qui davvero Si entra Un attimo In una zona Pericolosa Perché un po' Il discorso Che Poi si va anche A fare Nei confronti Per esempio Delle armi Oppure Ecco Delle Delle grandi Progressioni Scientifiche Ovvero Ci sono per esempio Ecco L'esempio famoso Che si fa Nobel Aveva creato L'esplosivo La dinamite Per far aiutare Quelli che dovevano Far esplodere le miniere E poi invece Viene utilizzato Per un altro modo Oppure Oppure Mi viene Mi viene in mente Per esempio Oricoshi Non l'autore Di Di Mairo Accademia Ma L'ingegnere C'è stato anche Quel bellissimo film Di Miyazaki L'ingegnere Che ha creato Gli aerei Giapponesi Per la seconda guerra mondiale Lui voleva Fare degli aerei Belli Che poi Sapeva Sarebbero stati Utilizzati Diciamo Dai militari E' un conto Ma lui interessa Fa un aereo Bello Che volasse Che andasse Velocissimo Che dovesse essere Ecco Una sorta di miracolo Della scienza E caccia a zero Bravo Sandy Genga E quindi poi Come dice Gabriele E' un attimo Una linea molto grigia Che separa Il discorso etico Dal discorso meramente Scentifilo Scienziato Vuole andare avanti Poi sta Ecco Nell'etica Di ciascuno Capire se Ci può essere Un limite Oppure no Effettivamente Però nel mondo Di One Piece I limit Gli scienziati Lo superano A prescindere Dall'etica Perché poi Se abbiamo visto Tutti gli scienziati Del mondo di One Piece Sono tutti uno Peggio dell'altro Certo Vegapunk Non l'abbiamo ancora Conosciuto Adesso capiremo Queen E' uno stronzo Judge E' uno stronzo Caesar Clown E' uno stronzo E' così E' così Cioè Poi se leggevo Il re complottista Ma no Non è che Mi basta scrivere Genetica Esperimenti Cioè Sono articoli di giornale Non è che mi sto inventando cose Non sto andando Nei meandri Te non ce lo dicono E cose strane Tra l'altro Sono dei discorsi Per esempio Dove stanno Ma tu Tu esempio Hai Conosci Lo scienziato Shiro Ishi Giapponese Durante la seconda guerra mondiale Sono Ah aspetta Quello dei Quello degli esperimenti Sugli umani Ah si 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 Durante la seconda guerra mondiale Che faceva cose atroci Ma cose atroci Tra l'altro Tra l'altro C'è stato anche un grosso problema Con lui Perché ecco Non manca fare la posta Prima ho citato Rikoshi E lui Aveva messo Fondamentalmente Uno degli esperimenti Aveva fatto Uno scienziato pazzo All'interno del suo fumetto E c'è stato Un sommovimento popolare Sì 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 Vero vero Mi ricordo Perché non si poteva fare No comunque Di queste cose In realtà Non abbiamo parlato Scusate se Rivango un attimo Questa cosa Anche all'interno Del vecchio One Piece Journal Adesso Mi fate una risata Però Nell'articolo Che avevo scritto Insieme a Ronin Parlavamo esattamente Di questo Ovvero parlavamo Di quelli Che potevano essere I problemi Dell'eugenetica Non solo applicato Al mondo di One Piece Ma Applicato anche Al nostro mondo Tant'è vero Che effettivamente Ci sono dei genitori Che come ha detto Gabriele Stavano già Cominciando A parlare Di quelli Che potevano essere Problemi etici Anche su quello Che può essere Una sorta di trasferimento Della coscienza Cioè Per noi sembrano Cose fantascientifiche Ma gli scienziati Ci credono E quindi Davvero Dove sta poi Il livello No è quello il punto Cioè Dove ti puoi fermare Io Credo che A determinati livelli Non puoi più fermarti E quindi Lasci l'etica Alle spalle Perché altrimenti Non puoi fare Quel mestiere lì Per me Eh sì Assolutamente Assolutamente Io non lo farei mai Perché Io Ma perché noi Non siamo comunque Scienziati Ci manca anche un po' Quel pelo sullo stomaco Che secondo me A certi livelli Devi avere Però Il progresso Scientifico In questo caso Alle volte Non guarda in faccia Nessuno Che è una cosa Terribile da dire Non è una cosa Bella Però Davvero Il voler alzare L'asticella Sempre un po' Più là Alle volte Richiede Dei sacrifici Che non tutti Poi sono disposti A pagare E Basta anche pensare Ma questa è una cosa Un po' improbile Perché Lo scopo Per esempio Ecco Della creazione Della bomba atomica Se pensiamo A quello che è stato Il progetto Manhattan Era proprio Creare quell'arma lì E quindi L'aver riunito Una grossa fetta Dei più grandi Scienziati Del mondo Dell'epoca Era tutto teso Per arrivare A quel Obiettivo Però poi dopo Ci si è resi conto Che forse Era meglio Non farlo Dopo però Dopo però Perché La conquista scientifica C'è stata E poi ci si è resi conto Che forse Era meglio Non farla Come conquista scientifica E Diciamo che Poi la scoperta Dell'atomo Ha portato Sì Tanti poi Problemi Ma Comunque Ha creato Anche un'energia Diciamo che Man mano si va avanti Potrebbe risultare Un'energia più pulita Benché sia Ancora Molto pericolosa Da gestire Da smaltire Sì Mi fermo un attimo Ragazzi Come abbiamo detto Gli scienziati Che erano stati presi Per il progetto Manhattan Sapevano Che L'abbiamo detto Trenta secondi fa Sapevano Che erano stati Assunti Proprio per scopo bellico Oppenheimer Einstein Tutti gli amichetti Di Fermi Lo sapevano Assolutamente Il problema è che Dopo Che hanno fatto La bomba atomica Si sono resi conto Che forse era meglio Non farla Questo abbiamo detto Cioè Andatevi a riscoltare Quello che abbiamo detto Trenta secondi fa Proprio perché Quando le cose le fai Da scienziato Le vuoi fare Magari ti rendi conto Che certe cose Davvero Meglio lasciate stare Non toccarle Pace È così Sì sì E infatti Come dice il nostro amico Andrea Alcuni si dissociarono A questo proposito Nel caso C'era un bel libro C'era un bel libro Molto carino Del buon Roberto Mercadini Intitolato Proprio Bomba atomica Dove lui Ti raccontava Dal punto di vista Storico E anche scientifico Come si è arrivati In questo caso Alla scoperta E alla produzione Della bomba atomica Quindi nel caso Ecco Leggete Perché lì Ci trovate un sacco di cose Molto 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 Interessanti Io dico solo Che non è questi discorsi Cioè il fatto che stiamo A parlare oggi Di scienziati Di problemi etici Di bomba atomica Io l'ho detto Anche nel mio report Ti fa comunque capire Di come One Piece Sia un fumetto Tutto sommato attuale Cioè parla di cazzate Però è attuale Ma è quello La cosa bella Cioè alla fine Riuscire a parlare Di quello che ci sta attorno Pur essendo una cazzata Cioè nel capitolo In sé Non succede niente Che dici Oddio Rivelazione Svelato Segreto Però Ma se leggi Giapponese Sì Un saluto Dal nostro amico Ciao Ti vogliamo bene Se le tiriamo addosso Con tutti Benissimo Ma se tanto Tanto hanno capito Tutti che siamo Due cazzoni Ce lo possiamo pure Permettere Tanto Tanto Adesso Adesso Che c'è su Georgia Facciamo di nuovo L'asse Cioè quindi È tutto È tutto Propedeutico Per queste cose Capisci Eia eia La la Perfetto Io manco a fare apposta Vedi c'ho pure la cosa Con l'alieno Perché tu sai La sai la storia Dell'ufo di Mussolini No Cos'è Quando No Non la conosco Forse l'ho letta Non mi ricordo Non mi ricordo Cioè Allora questa è una cosa Tra le tante cose Che quando c'era lui Sul serio Venne anche creato Un po' Sulla falsa riga Della nerve nazista Un distaccamento Fascista Dedito Unicamente Alla ricerca Delle cose paranormali Era distaccato a Milano E c'è questa grande È l'erato L'ufficio di gabinetto Bravissimo Il 33 E tra le leggende metropolitane Che si sono venute a creare Grazie a questo A questo diciamo Gabinetto fantasma Di Mussolini C'era il fatto Che probabilmente Negli anni 30 Un UFO era caduto Dalle parti di Milano E Mussolini Col suo gabinetto Di scienziati segreti L'aveva messo In un hangar Per studiarlo A scopi bellici Pensaci Fantastico Fantastico Sì 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 Queste sono quelle Futtanate fantastiche Quindi anche Mussolini Fascisti su Marte Fascisti su Marte Faccia da nero Vabbè basta Sì 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 Bene Per rompere un po' Il mood Volevo farti vedere Una cosa molto divertente Ok Allora quindi Condivido un attimo Il capitolo Degli amici Sciarpedo e Carvagna Un attimino Voglio una chat piena Di emoticon Sciarpedo e Carvagna Carvagna Sciarpedo Sciarpedo e Carvagna Gli amici tuoi Delle scan Perché qua Chiaramente c'è Gimber Revelation No Tutto Sì 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 Che qua Prendi il timone Quindi Un attimo Si leva Il suo ruolo Dal timoniere Si lancia In mare Tranquillo Sereno Va a salvare Il capitano Quanto altro Qui vi faccio notare Poi Scusami se ti interrompo Perché poi Spesso e volentieri Quando si parla di One Piece Questo discorso Il fatto che sia disegnato male Bruttissimo Oda non sa più disegnare Questo capitolo È azione pulissima Disegnata benissimo Sceneggiata benissimo Ogni tavola Respira alla grande Capisce esattamente Tutto quello che succede Tra l'altro Ne approfitto per dirvi Ne approfitto per dirvi Che Scusate Faccio un momento Spottone Segnatevi queste date Voi amichetti di One Piece Così lo sapete Allora Giovedì Serata Teoaria Vedo l'ora Ci sfreghiamo le mani Lunedì prossimo Anche se il capitolo Non c'è One Piece Deep c'è E io e Gabriele Abbiamo deciso Di andare a leggere Gli articoli Dei siti fuffa Su One Piece Esatto Fantastici Poi Giovedì 6 E giovedì 13 Ci sono due serate Antitetiche Su One Piece Giovedì 6 Ho chiamato Alberto Longo E Spugna Che verranno qui E insieme Cercheremo di capire Perché One Piece Graficamente È un fumetto figo Cosa funziona Per bene Giovedì 13 Facciamo il contrario Facciamo contro One Piece Con Leonardo Verghella E Alfredo Postiglione Che lo demoliranno Dino Ha schifo Ho disegnato una chiave Che è una merda Eccetera eccetera E tra l'altro Domani ne approfitto Sul canale Bike & Raft One Piece Dove il re vincerà Quindi che cazzo Andiamo a fare Non lo so Però ci divertiamo Il vero vincitore Che arriva secondo Ok Io vengo Mi autosqualifico Da solo Così vi guardo Non so assolutamente niente Cioè Dico le risposte Sbagliate apposta Perché tanto Vabbè comunque Allora Quindi qua abbiamo Jinbei Che faccio notare Il simbolo Dei pirati del sole Sul petto No Poi qua È bello Che viene fuori E qua Diceva Nella versione originale Nemmeno il timone Può fare nulla Contro queste correnti Quindi qua Ho già capito Che Jinbei Ovviamente non serve A nulla Per arrivare Ma la cosa meravigliosa E poi qua Quando poi Riemergono Sull'isola E chiacchierano Guarda Jinbei Che non ha più Il simbolo Dei pirati del sole Così come Isoca Si toglie Il ragno Dalla schiena No Ti ricordi Anche Jinbei Si toglie Il marchio Dei pirati Del sole Perché lui Non è mai stato Non è mai stato Ma Te l'ho mandata All'immagine Di Ruffi Che picchi A Jinbei Gli mette Si 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 Assolutamente Esatto Vabbè Qui chiaramente Si saranno Dimenticati O forse Jinbei Ha capito Che è venuto Il momento Di tradire Definitivamente I suoi compagni Per unirsi Subdolamente Ai pirati Di cappello Di paglia Solo per far finta Poi di essere Suo amico Così poi Da rivelarsi In realtà Per quello che è Era un trasferello Era un trasferello Era fatto Con l'inchiostro Simpatico L'inchiostro Simpatico E adesso Lui si è tolto E probabilmente A breve Rivelerà Il fatto Che lui È Crocus Tra l'altro Questa immagine Tra l'altro Questa è Una vignetta Interessantissima Molto Perché Il fatto che parli Della taglia Noi pensavamo Che eri cambiato Dice no Perché quando Lì Quando sono libero E qui È una via di mezzo Tra il Ruffi Normale Come hanno detto Molti Il Gear Fifth Secondo me Pone Un quesito Che non so Se tutti quanti Noi Ci siamo posti O meglio Io me lo sono posto E per farvi capire Faccio un esempio Ovvero Quando Goku Si è trasformato Per la prima volta In Super Saiyan E poi È tornato Sulla terra Dopo la sconfitta Di Freezer Quando parla con Trunks Dice una cosa interessante Ovvero lui dice Io quando sono andato Siardratt all'inizio Non riuscivo a capire Come trasformarmi In Super Saiyan Non capivo E poi ho capito Però mi c'è voluto Un sacco di allenamento E con Ruffi Come funziona la cosa Cioè lui adesso È già in grado Di attivare così subito Il Gear Fifth Eh si Ma se ti ricordi Quando Kido Gli fa vedere le taglie Gli schizzano Gli occhi dalle orbite No Quindi Ormai lui Fa parte di sé Fa parte di sé Quindi dici Lui Lo ha sbloccato Quindi Andata Via Fatto Cioè ormai Lui è nella Nella sua forma Zone Trasformata Sempre Cioè È arrivato A livello incredibile È un risveglio Permanente Dice Sadie Dice Sadie Gaggar Ho visto Eh questa è una cosa È una domanda Che mi faccio io Perché io poi Mi faccio i rippimentali Sulle buttanate No chiaro Quindi Però era proprio interessante Perché qua se ne escono fuori Sono La persona più libera Di tutti E vaffanculo Con Chopper Non gliene frega un cazzo A Jim Che sta lì E lei Che sta Tra l'altro Lei è ignuda No Rufy è un uco Ogni interesse A Chopper Ogni interesse Una donna Mentre Jim Gli fa vedere Il pesce È incredibile È incredibile Questa cosa Guardalo come Sornione Ma perché Ma perché Quello è il fascino Dell'uomo maturo Ma chiaro Ma poi questa immagine Questa tavola qua sotto Ti fa capire perfettamente Che lei è una vecchia Perché ha L'attitudine Ad alzarsele Per sistemarsele No Perché quando è vecchia Sono Cioè Ha proprio l'istinto Perché qua Vedi che sono Sode sodissime Quindi non ha neanche senso Alzarsele Solo che lei Poi qua C'ha questo istinto Di mettersele a posto Insomma Perché quando è vecchia Se le ritrova Tra le gambe Che meraviglia Che cosa fantastica Vai giù Giusto un attimo Perché vedevo la cosa Eccola qui Di Aged Questo è quello Che dicevi tu E vedi Guarda quanto è bello Questo Questo uovo futuristico Che però Si vede C'ha proprio l'elettrone No Quindi è Un atomo Uovo Che è veramente Fighissimo È un uovatomo È un uovatomo Che meraviglia Sono quelle puttanate Che mi rendono One piece One piece E spero di vederla per bene Fa ridere perché C'è C'è solo una grotta E loro sono finiti Dentro in quella grotta Vabbè va chiaro Ma scusa eh Gabriele Mi cadi sull'uccello In questo caso Sul pesce Sul pesce E mi cadi sul pesce Cioè È il destino È chiaro Loro Loro Erano destinati Ad arrivare Da Vegapunk Quando c'era Bonni Erano destinati Ad arrivare Esattamente Lì dove c'era La grotta Erano destinati A fare quello Che Hanno fatto E hai visto invece Ciopperino Che finalmente Ha rinnegato Il suo mentor Per un altro cappello Ma no Questa è la forza Dei soldi Di Oda Chiaramente Chiaramente Adesso devono vendere Tanti piccoli Chopper Wano Kuni E quindi Ma io sono il primo Che me lo compra Io lo dico Il Chopper Versione Wano Kuni Che abbiamo visto Anche il capitolo scorso Quello del cappello Se esce Io me lo compro subito Perché mi piace Come pupazzetta È sfiziosissimo Questo Chopperino qua Me lo compro al volo Perché non sembra Chopper Perciò me lo compro Ma infatti Sembra Alvin Non c'è manco le corna È Alvin Semillo Esatto Esatto È un chipmunk Esatto Guarda Rufi Rufi lo guarda Dice ma che cazzo sei Ma che vuoi Però quanto Quanto è divertente C'è che sta battuta del cazzo Andiamo a cercare un ristorante Ho fame C'hai dei soldi Non c'ho una lira C'è sono quelle puttanate Che davvero Mamma mia Ah Ce l'avevo proprio qua Mi mancavano proprio un sacco E E che dici È il fatto che lui Si ricorda Di Vegapunk C'è Rufi Che si ricorda di Vegapunk Questa cosa E Ma Allora Lui che storne i nomi Non si ricorda mai una sega E stavolta Secondo me Oda Pian piano Non c'è se reso conto Di Rufi un deficiente Però non può essere sempre deficiente Cioè il fatto che si ricordasse Delle armi ancestrali Che è strano Vero Vero È strano Il fatto che si ricordasse Che Frenkie Avesse a che fare Con le armi ancestrali Il fatto che si ricorda Il nome di Vegapunk E secondo me Oda O gli edit Gli hanno detto Senti Quello è già deficiente Ogni tanto gli devi far Far qualcosa di utile Se no Non ha il minimo senso Quindi è giusto Che sia così È giusto che sia così Perfetto Perfetto E io direi Che possiamo processare Processiamo 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 Processi in Italia Vanno tutti un po' così Per fortuna ci stacchiamo Ma il processo è lunedì E prima di passare Al processo Quindi ai vostri Cessi Se funzioni al mouse Ai vostri cessi Chiaramente E quelli di Berlusconi Con Gheddafi Vuoi che io muoia Stavo bevendo Non mi sarei mai permesso Adesso parliamo Di cose serie Parliamo del fatto Che Ibarri La ragazzina Ha l'accento Di Hiroshima Come Akainu E quindi È sua figlia Genitore 1 Genitore 2 Figlio Donna Madre Eh Anche lei Va bene In questi capitoli Post Wano Il fandom Ha ritrovato la bellezza Di leggere One Piece Pre-time skip Quindi la fine Della saga Degli imperatori Quello da Pancazza Da Wano È stato complessivamente Un flop a causa Del troppo hype Dato che Wano Ce la portiamo Da Thriller Bark Ma Sì No Boh È un'altra cosa Secondo me Cioè la roba di Wano È un inciso Ma un inciso Costruito ad arte Che fosse lì O che fosse prima Doveva andare così E basta Cioè io penso che Era così Quindi è un'altra cosa Se Non è un flop Troppo hype E basta È che semplicemente È una cosa costruita Perché doveva andare In quella maniera È Diciamo che Secondo me Questa è una cosa Di cui ho parlato Chi diciamo Bazzica da anni La community Di One Piece Può testimoniare Quello che Ogni tanto racconto È la verità Ovvero che Tutte quelle che di solito Sono le critiche A One Piece Oggi Sono le stesse Di quelle che erano Cinque anni fa Dieci anni fa Quindici anni fa Nel 2006 Nel 2005 Ovvero ogni volta Che c'è una saga lunga Più o meno lunga Il fandom Cosa fa Si lamenta Sempre Il fandom Si lamentava Si lamentava Davvero Si lamentava Di Any's Lobby Ma quando finisce Any's Lobby Quando finisce Questo combattimento Con Rob Lucci Credete Io c'ero già Nei forum A quei tempi Ma che palle Quando riaccende la luce Ma che palle Quando riaccende la luce Che palle Questo Rob Lucci Non ne possiamo più Ma quando passa Nella prossima isola Thriller Bark Uguale Impel Down Uguale Impel Down Non avete idea Gente che palle Questa prigione Di massima sicurezza Non ne possiamo più Io sono uno di quelli Che quando ho letto A capitoli settimanali Marineford Mi volevo uccidere Ma quando Ma quando Ma quando si vedono Delle mazzate In questa saga Di mazzate E via discorrendo Quindi in realtà Quello che dice Sassomedio È una cosa Che si dice da sempre Di qualsiasi saga Di One Piece Poi guarda caso Quando la si va A parlare Delle saghe Passate In realtà Se ne parla sempre Più bene Che male Quindi Io non credo Che sia stato Un flop Anche perché Poi all'interno Di One Okun Ci sono alcuni Dei punti più alti In assoluto Di One Piece Che se ne dica Il mini flashback Di Roger All'interno Del flashback Di Odden Da solo Vale tutta la saga Senza se Senza ma Ci sono davvero Dei momenti Altissimi Bellissimi Tanto a Wano Che a Onigashima Però è anche vero E questa è una cosa Di cui abbiamo sempre parlato Che la lettura Settimanale di One Piece Non aiuta No Quindi poi Quando te lo vai a rileggere Oppure se non hai mai letto One Piece E te lo leggi Per la prima volta Tutto insieme E in realtà Lo apprezzi molto Quindi È più fluido Sì Il fatto che noi Lo leggiamo Settimanalmente Non aiuta Da quel punto di vista Per cui Quando rivediamo Certe cose Non vedevamo Da 4-5 anni O personaggi Che non vedevamo Da 10 anni Godiamo Ma se te lo leggi Tutto insieme Non hai Questo Problema Letti Ultimamente Tutti insieme E mi sono piaciuti Un sacco Perfino Il flashback di Go Lo trovo veramente Una perla In tutto il discorso Considerando poi Quello che Ci verrà a nascere Successivamente Attaccato Quel flashback Assolutamente Molto Molto bello E ai tempi Non finiva mai Cioè la roba Del Grey Termino Era veramente Era straziante Tutti Dialoghi Una roba allucinante Mentre poi Tutti insieme È bello Anche Marinho Io potrei fare Lo stesso esempio Magari Esula Da One Piece Magari Molti di voi Non l'hanno letti Con Kingdom Kingdom letto A capitolo settimanale Penso che sia Una mazzata Sui coglioni Non indifferente Ci sono C'è una saga Di Kingdom Su 150 capitoli È una battaglia Intera Da 150 capitoli Non finisce più Quella battaglia Cioè Immaginatevi Wano E Onigashima Insieme Solo quella Una battaglia Una battaglia Immaginatevi A leggere Quella battaglia Una volta La settimana Per cinque anni Mi sarei Accoltellato Se te la leggi Tutte insieme Te la leggi Letteralmente In due giorni Perché non ti stacchi E godi Come un rio Goduto veramente Come un riccio Ma se te la devi leggere Ogni settimana Io non ce la faré Non ce la avrei mai fatti Infatti questo Prossimo fine settimana Mi metto in pari Finalmente con Kingdom E lo riprendo Solo quando sarà finito Perché è un fumetto Che io settimanalmente Non riuscire mai A leggerlo E mi conosco Con One Piece La situazione è diversa A me ci siamo Da talmente tanto tempo Che è la nostra dose Quotidiana Settimanale In questo caso Di Caciarone Vediamo 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 A me ha fatto Un po' storcere Naso Saluto il nostro amico Luca Matteo Tutto attaccato Il fatto che Si imbattano Nell'isola di Vegapunk Così facilmente Che tra l'altro Questa si avvicina a Uano Cosa ci metteva Kaido A rapire lo scienziato E ma è il destino Luca Matteo È il destino Tu non puoi andare Contro il destino Ma la cosa Che fa ridere Non è tanto questo È che L'isola vicina a Uano Sono l'isola di Vegapunk L'isola di Barba Nera E ovviamente L'isola dei Giganti Cioè ovviamente Uano È vicino a tutto E loro No noi siamo isolati Nessuno ci vede Nessuno ci caga Cioè 800 anni Che siamo qua E nessuno ci dice niente Vabbè Vabbè ma qui potremmo Scusate Gli occhi andare avanti No ma il fatto Che loro dicono No noi siamo isolati Poi in realtà Ci sono i gabbiani Con i giornali Del governo mondiale Che ci passano sopra Ogni giorno Ogni tanto lasciano Lasciano i giornali Nessuno ne ha mai letto uno Stranamente L'unico giornale Ogni tanto Roshi Oppure Oden O loro stanno ancora Nelle acque di One Arrivano 6.000 gabbiani Con i giornali Ma come cazzo è possibile Queste sono proprio Quelle buttanate Ma è un vulcanetto Sarà alto 100 metri Cioè figurati Assolutamente 100 metri di mura Non possiamo salire Non possiamo più entrare Basta Non posso più scendere Né scendere Né salire Va bene Il bello di One Piece È l'avventura Al vedere poste In luoghi diversi Per me Rimane anni fissi Per anni Sulla stessa ambientazione Per me Inficio sulla bellezza E il senso del manga Soprattutto può essere L'ennesima storiella Del regno da salvare Sì Beh diciamo Che Wano Ha sicuramente Ancora da dire Non è finita Cioè ce l'han detto No Ora ci prendiamo Una pausa Ci vediamo La prossima volta Per il quarto atto Quindi Anche perché Loro devono ritornare Teoricamente Su Buonoguni Devono distruggere Le montagne Devono aprire I confini di Wano Come Forse lo fanno A ottobre Giappone riapre Riaprono i confini Di Wano Lo fanno pure Nel manga In contemporanea E quindi Rufy deve andare Su Wano Perché Rufy È Joy Boy Eh sì Deve rientrare Loro devono accogliere A meno che Raccogliere Joy Boy Non è la fine del manga Quando è tutto finito E quindi Loro accolgono Joy Boy Chiaramente E quindi poi vedremo Sarà interessante Però È un pochino vera Questa cosa Cioè Questo È un discorso Anche questo Che abbiamo sempre fatto Ovvero Un autore Che fa un fumetto Quando ha vent'anni È totalmente diverso Da un autore Dallo stesso autore Che fa un fumetto A 40 anni E quindi Le persone Che comunque Pretendono da Oda Il One Piece Di 20 anni fa Non ha Non ha senso Perché a Oda Interessa Raccontare L'interessa L'interessa Favua No Kuni Così come È un uomo È un uomo È quasi cinquantenne Cioè Con le sue Ovviamente Con le sue idee Le sue esperienze Sarebbe anche Non dico ridicolo Perché poi Per carità Ci sono cinquantenne Che fanno i battle manga Classici Senza Senza problemi Io me ne leggo Tutti quelli che volete Non ho problemi Però Il pretendere Quel One Piece Adesso Sarebbe Anacronistico Secondo me Per dire Questi capitoli Che abbiamo visto Sono meravigliosi Perché ci hanno fatto Riassaporare Quel One Piece Lì Però Perdonatemi Permettetemi Io adesso voglio L'intreccio Dell'isola del futuro Ah sì Io voglio vedere Vegapunk Voglio vedere I misteri di Vegapunk Voglio vedere Vegapunk Che inciarma Nel suo Inciarma Nel termine napoletano Che dice Si industria Nel suo Laboratorio Voglio vedere Le scoperte Voglio vedere L'isola del futuro Quindi sì Per carità Bellissimo Tutto quello Che abbiamo Detto Visto Io però Adesso voglio Voglio l'intreccio Alla oda Sull'isola del futuro Certo Ti immagini Se Vegapunk Non ce lo fa vedere Cioè Alla fine Tu vedi I suoi cosi I suoi sgherri Intorno E di lui Non lo vedi Lo vedi tipo In ombra Alla fine Che è Franchi Sarebbe bellissimo Io esploderei Franchi da vecchio Cioè È Franchi vecchio Perché è il padre No no Perché Poi il nonno No no È lui perché è tornato indietro Ricorda Ogni volta che dico Che torniamo indietro Lui se ne va E che devo fare E che devo fare La rotta al contrario Dovrebbe rifarla per forza Sia per aprire i confini Di Wano Sia per distruggere I giorni di pesce Assolutamente sì Hai ragione Hai ragione Probabilmente C'è un solo gabbiano Che passa per Wano Gli altri vengono mangiati Dalle carpe Ce li mangiano Anche gli smiler Tipo c'è C'è lo smile Di Di De Sica Che vola Si prende i gabbiani Fantastico Davvero falco Come dice il nostro amico Max Voglio vedere le risposte Di Vegapunk Anche io Ma le vedremo? Rivelate Le risposte Di Vegapunk Ma solo se leggi In giapponese Andiamo avanti Ma perché Lo squalo E la tipa Hanno la denominazione Punk E il numero Invece Il robot La denominazione Vegaforce Quale sarà La differenza? L'idea più comune Era da una parte L'organicità Dall'altra parte Il fatto che È totalmente meccanico Quindi le unità Punk Sono vive Le unità Vega Sono Robotizzate Oppure avevo letto Una cosa Pure altrettanto Peravigliosa Immagina se lui davvero Si è splittato In tante Personalità Quindi uno l'ha fatto Vega L'altro l'ha fatto Punk Yeah Va bene Vediamo Quando i Mughi Ripartono da Sabaudi Frankie parla loro Di Kuma Della sua promessa Accordo con Vegapunk Riguardante la sua Ultima missione Cioè proteggere la Sunny Conclude dicendo Che devono molto A Kuma E di tenere a mente Che allo stato attuale Lui non ricorderà nulla Mi aspetto quindi Che questi antefatti Portino i Mughi Ad aiutare Bonnie Ma certo Ma certo Ma infatti poi Questo discorso Di Frankie Che Gli deve sostanzialmente Sia la vita Perché poi Gli ha Gli ha allontanati Da Da Sola di Sabaudi E gli ha protetto La nave per due anni Farà sì Che un giorno Quando Frankie Diventerà Vegapunk Darà il contentino A Kuma Andiamo avanti Vedrai 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 Ti voglio Ti voglio leggere Questa domanda Che secondo me È veramente interessante Questa Robin ha detto Che l'ultimo Poneglyph È scomparso Da tempo Ma Shanks Teoricamente Li ha tutti e quattro Dato che ha detto Di voler andare A reclamare Il One Piece Quindi c'è la Shanks L'ultimo Poneglyph Ma secondo me A Shanks Non gli servono I Poneglyph Lui sa Sa tutto Per me Lui sa Dov'è Laftail Cioè era lì Quando hanno disegnato La mappa Prima di fare L'ultimo viaggio Poi Baggy Si è ammalato E non è potuto andare Ma per me Lui tranquillamente Lui tutti e quattro Li ha visti Innanzitutto Quindi se volesse Comunque Tre su quattro Ma a patto Che l'ultimo Poi non lo abbia Recuperato prima Sa dove sono Tutti quanti Per me Non ha questo problema Lui A lui manca Soltanto la chiave Che è Rufy Cioè Aspettato che Che Rufy diventasse Il Nika Infatti uno Vede la taglia Fa bo Siamo pronti Andiamo Andiamo Ora possiamo andare Perché c'era Nika Sulla taglia Prima non poteva andare Perché non era ancora Non c'era ancora la chiave Che ci andava a fare Non andava là Rideva anche lui Perché niente Non poteva farci Diceva Come disse Roger Rido Rido Che stanno battute In napoletano Non la posso fare Anche abbastanza triste Sì Ridevano Perfetto Vediamo 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 Non vi darebbe fastidio Una parentela Fra Frankie e Vegapunk Sarebbe l'ennesimo collegamento Tra un Mugi E un personaggio importante Del mondo di One Piece Io ogni volta che parlo Mi cacci via No puoi parlare No no Non siamo ancora Non siamo ancora In una dittatura fascista Ho detto ancora Non siamo di nuovo No ancora Ma ogni volta che faccio Devo stare attento Non puoi parlare No perché se Frankie E Vegapunk È tornato indietro E vedi E vedi E vedi Io martellerò Per cinque anni Anche meno Questa cosa Finché non me la smentisce Come ho fatto Con Moria Che doveva tagliare L'ombra di Kaido Che a me Mi sarebbe giusto tantissimo Vedere Moria Che Alla fine Avrebbe Potuto avere La sua rivalsa Su quello stronzo Invece no No voglio rispondere Per bene A questa domanda A me personalmente Non darebbe fastidio Anzi Forse sarebbe Tra tutti quelli Che abbiamo visto L'unico Con un perché Serio Cioè Il fatto che Frankie Avesse comunque Un certo tipo Non solo di genialità Ma anche di manualità Quando era bambino Perché è stato abbandonato Dai suoi genitori Che erano pirati E il pirato In questo caso Era Vegapunk Veramente Quello che Sin da subito Ti spiegherebbe Il perché Quindi Tra veramente Tra tutte Le filiazioni Le affiliazioni Tra tutti i padri Madri Fratelli Zii Nipoti Sorelle Eccetera Sarebbe forse L'unico Del quale Sarei anche Contento Che poi È proprio Appunto Il fatto Che lui Da bambino Riuscisse a creare Delle armi Letteralmente Delle armi Distruttivissime Che poi hanno Anche ammazzato Tutto il processo Di Tom Per questo Cioè Roba che lui faceva Da bambino Prendeva pezzi Li montava Faceva Sti cannoni enormi Cioè Un bambino normale Non le fa Sti cose Quindi Per me No Questa Davvero Sabe L'unica Cioè Posso anche Arriva al di Ma no Che rottura Di coglioni Protagonista Che è Figlio di Nipote di Cazzi e mazzi E Zoro Che si è scoperto La gente De Wano Kuni Che rottura Di cazzo E Usop Che è figlio Dell'amichetto Di Shanks Gli altri Mi rompo i coglioni Lui no Cioè Proprio lo dico Senza problemi E quindi Anzi Io ci spero Vivamente Che sia proprio Il figlio Darebbe proprio Un perché Al fatto che lui Sia comunque Così geniale Parere personale Chiaramente Vediamo Non gli serve Vedrai che Alla fine Il combattimento Sarà tra Shanks E il sigo Della scogliera E forza di Dai a dagli Avrà ancora Tra i denti Il braccio Incastrato Pensaci Poi lo porta Da Mancherry E glielo Gli attacca Va bene Ah Poi c'è un'altra cosa Di cui non abbiamo parlato Il fatto che Mike Haribo È proprio diventato Best friend Amico loro Insieme a loro Cioè ma E Veramente Lui è quello Che lì Non c'entra un cazzo E però c'è Lui è Non lo so Che piani ha Però lui 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 sa Due armi Sa il sogno Di Rufy E Che incredibile Ma cioè Lui se andasse Da Morgans Diventerebbe ricco In un Così Sì 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 Lui veramente Può rivaltare La situazione La sua vita Semplicemente Parlando Con un uomo Ecco Vi dicono In chat Caribo Vero Nakamo Così posso Cambiare pure la sigla Al posto di Yamato Ci afficci con la faccia Si mette in a merda E Fantastico E Vediamo Vediamo Sì sì Caribo Vero One Piece Assolutamente Caribo Il narratore Onnisciente Di One Piece Adesso si comincia Ad andare Comunque Ne approfitto Un attimo Al volo Ringrazio El Burli Jeffrey Granchio Grazie a Giotondi Grazie a Bardac94 A Merio Che dice Comunque Secondo me Bonnie è una ragazza E magari Il sorello Sorellastra di Orso Il fatto che Da vecchia Assomiglia alla regina Perché la madre di lei O di entrambi Era la regina Capiamo Comunque Vi ricordo Che se avete Amazon Prime Vi potete abbonare Gratuitamente A questo canale L'ho ancora ricordato Una volta Alla sera Lo ricordo sempre Vediamo Caribou è quello Che fa gli spoiler Dei capitoli E ti ricordi Quella teoria Che avevamo visto Durante la serata De teorie Che Caribou Era a se back Vi ricordiamo Che giovedì Alle 21 Serata Teoaria Non approfitto Io non vedo l'ora Ma lo dico sempre Io ho questo video Ma è più di un mese Ormai Conservato Ma Morgans Era un membro Della ciurma Di Roger Io vedo l'ora Solo quello Ci vediamo Ci vediamo No ci vediamo Quello Ci vediamo Quello Poi ho scoperto Un video Quello che ti avevo Fatto vedere Perché mi è apparso Nella home di Youtube Di tale Giorgio Cappello Di Paglia Le 44 Le 44 Curiosità Su Nico Robin Due Che non conosciamo Sicuramente Che non conosciamo Chiaramente E poi il terzo Lo devo ancora decidere Ancora non lo so Capiamo Andrei su 333 Evil Che è un maestro Saluto Andrei Andiamo dal maestro 333 Evil Che è veramente Un botto di tempo Che non lo vediamo Chissà che cosa Si è inventato Nel frattempo Comunque ringrazio Sasso Medio Per l'abbonamento Ma quindi Marine non ci sono A difesa di Vegapunk Si difende da solo Con i suoi robot Bastano quelli No C'è che poi C'era sento Maru Che era la sua guardia Del corpo Bravo C'è da capire Se sta lì Che poi Più che guardia Del corpo Io ormai penso Che sia tipo Lo sbirro Cioè che gli impedisce Di andarsene Secondo me Più che Perché per me Lui è lì Segregato A vita Lui è contento Fa i suoi esperimenti Però lui Poteva andare solo A Punk Hazard Poteva fare spola Questa è una cosa Interessante Perché poi Effettivamente Il sento Maru Dice No io sono La guardia del corpo So vicino A Vegapunk Addirittura Mi hanno fatto Marine Apposta Poi per Per avere il grado Per fare queste cose Qui Carceriere Dicono in chat Carceriere Vediamo 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 Dice il nostro amico Raptorslayer Quanta pubblicità Sarà l'ottava volta Allora Io direi che potete Ringraziare Il nostro amico Raptorslayer Adesso ne mando una Manualmente Apposta Per farlo triggerare Esegui Interruzione Perfetto Così gli parte Solamente a lui E parte Il nostro continuo Così impara A lamentarsi Di questa cosa Così impara Ho fatto partire Manualmente Anche Metalba Anche Metalba Esatto Così Raptorslayer Abbonati È un cacacazzo Che cavolo Vediamo Vegapunk No si scherza Raptorslayer Ti vogliamo bene Però La pubblicità L'ho fatta partire Solo per te Questa cosa Io non lo faccio mai Non le faccio mai Partire manualmente Partono da solo In automatico Questa l'ho fatta Partire con tutto il cuore Così Grazie a Reiki Hakiman Per l'abbonamento Dice Se Shomaru È un clone di Rufy Vabbè ormai Questa cosa Così Quando Rufy Parla del suo sogno Avevo letto Quando Rufy Parla del suo viaggio Nel tempo Ma tu hai capito A che livello Mi hai fatto arrivare Vengono inquadrati Tutti i Mugiwara Compresa la Sanni A me ha dato l'idea Che lì abbiamo visto Tutti e dieci Nakama Che Rufy voleva dall'inizio Se pensiamo che Usop Disse che già ai tempi La Mary fosse una compagna Ma perché no Perché no Più che altro Immagino che il nostro amico Danny Jack Abbia detto questa cosa Anche in virtù del fatto Ecco che la taglia di Frankie È a Sanni adesso Infatti Ma questa cosa Infatti Poi ne parlavamo ieri Alla Fatal 4 E Frankie Non è nessuno In questo momento Tra i Mugiwara È quello È lo sconosciuto Perché non ha un volto Non è un volto noto La sua faccia È quella della nave Aveva un volto umano Faceva le fusa Sono battute Eh Vabbè Ma Diciamo che ormai Questa è una barzelletta Del mondo di One Piece Ormai sono proprio Quelle cose Che Cioè se ci pensi Da un lato Fanno ridere Dall'altro Sono delle trashate Assurde A meno che Non se ne escano Davvero Un qualche spiegazione Che vedremo più avanti Come credo Che poi faranno E lo sai già Perché 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 Se no Avrebbero spoglierato Il volto Di Vegapart Io non ne posso più Non ce la faccio Mi sembro Furio Con Magda In bianco Rosso E vertone Non ce la faccio Più Non ce la faccio Io arriverò Il giorno In cui sarai tu A dirmi Che sono tornati In vita Nel tempo Vabbè Secondo voi In me a conoscenza Di che cos'è Il One Piece Sa dove Laugh Tale Ma io Penso Di no Altrimenti Verrebbe meno Tutto il sistema Di Salvataggio Di Laugh Tale Cioè Il fatto che Debba essere scoperta Tramite questo sistema Di mappe È per evitare Che magari Venga cancellata Dalle mappe Perché non c'è No Tra l'altro Io ho sempre pensato Poi questa è una cosa Di cui ogni tanto Abbiamo parlato E che tutto sommato E questo fa capire Anche il loro livello Di intelligenza Per 800 anni Cioè loro bastavano Esattamente come Jim Si è trascinato Un poneglyph Per le spalle Bastava che andavano In giro per il mondo Si prendevano tutti I poneglyph Di tutto il mondo Se li portavano A Margeo Problema risolto Nessuno L'avrebbe mai saputo Lo mettevano lì Nella ghiacciaia Avevano risolto Il problema Non dovevano manco Avere paura Del ritorno di Nika Se ci pensi Certo Ma è finita così Ma vedrai che alla fine Il governo mondiale È a favore di Nika Ci sarà qualche cosa Stranina Altrimenti non te lo spieghi Perché sono così Così indietro Non è possibile Alla fine Im Sama È il Nika Che non ce l'ha fatta Im Sama E Joy Boy Che è tornato Da Vanda Indietro del tempo E quindi è Rufy Eh Ti ho detto Altre volte Che si è spaccato In due E tu mi hai cacciato fuori Questa è la dimostrazione Come One Piece Fa male alla salute Ormai Ormai siamo Un livello Di trash Ormai Ormai Cioè Voi pensate Fra cinque anni Anche meno Quando arriveremo Al finale Come stai Io da un certo punto di vista Ho un'eccitazione pazzesca Per i capitoli finali Quando ci arriveremo Non so Non so davvero Che cosa succederà Credetemi Se ci arriveremo Se ci arriveremo vivi Perché qui chiaramente Con le bombe atomiche Un attimo Che Così Al massimo Vedremo il finale di One Piece Nell'aldilà Cioè mi viene da sperare Nell'aldilà Per vedere il finale di One Piece Ma questo è un altro discorso E Però penso che arriveremo Veramente Se ci arriveremo Veramente distrutti Immagina Gli spoiler Sui capitoli Secondo me Sai cosa dovremmo fare Quando abbiamo la certezza Che mancano Dico Quattro Cinque capitoli One Piece Ma è ancora Ma Ma quelli lì Sono i capitoli Ormai di chiusura Sono di smaltimento Ma saranno belli Comunque E vabbè Ho capito Ma Il Il groppone Sarà un pochino Prima No Però secondo me Eremo Eremo Sì Dovremmo affittare Tipo una casa Andiamo su Airbnb Ci mettiamo tutti quanti Tutti gli amichetti Facciamo un mese Di 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 Cazzate Solo su One Piece Per poi leggerci I capitoli finali Per la cosa Che abbiamo deciso di fare Però sarebbe interessante Fa questo esperimento E poi facciamo tutti i vlog Finali Assurdi Rivelato Svelato Oddio Incredibile Proprio per dare La botta finale Per dare la botta finale Per quando è finito One Piece Chiudiamo i canali YouTube E poi Capiamo di fare cosa Cosa succede No ma In fine chiudi Non monegravi di strascico Vabbè ma tanto Tanto Mo c'è Aspetta Perché poi Noi diciamo Chiudiamo Tuttanto Mo c'è Il telefilm Su Netflix Faranno un sacco Di spin off Faranno lo spin off Dello spin off Faranno tutto Secondo me faranno Anche tipo Come Boruto Dopo 3-4 anni Che fine hanno fatto I pirati Nuova era Della pirateria E quindi Ci dovrete sopportare Per altri 50 anni Mi dispiace Col figlio di Machino No Che parte dall'avventura Col cappello Perché c'è il figlio Di Im Che è diventato Il nome del mondo Qualche stronzata Così Sicuramente Assolutamente 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 No io non vedo l'ora Io non vedo l'ora Che finisca One Piece Così basta Non ne parlo più Con ciò Fa anche cose Un po' più serie Cioè io Io Pensate Ho dedicato Una vita a voi Quando avrei potuto fare Tutt'altro E voi lo sapete bene Ma il mio amore Nei vostri confronti Oltre che One Piece Fa in modo che io Prenda una parte Consistente Nella mia vita Con cui potrei fare Molto ben altro Per voi Oltre che per me Chiaramente Perché lo faccio Però Pensateci Potresti approfondire La teoria relativa Alla numerologia Della taglia di Barba Nera Non ne ho la più pallida idea So solo che È il San Cocoro Eh ce lo racconti? Eh ma perché Cos'è Xan è 3 Cocco è 9,9 Ro è 6 Quindi la taglia Di Barba Nera Che è 3 miliardi Cos'è 996 milioni Si può leggere Tra le tante numerologie Anche San Cocoro Che vuol dire Tre cuori No? Ok Questa è la pensaci gigantesca Il fatto che in chat Stiano dicendo Che me lo fa fare L'amore per i soldi Ha fatto in modo Che io abbia fatto partire Una seconda pubblicità Manualmente Così imparate Per questa cosa Le vostre sono solo illazioni Senza senso Scupro Teribile Terribile Ragazzi Posso dire una cosa Ma magari Anch'io Giocando a Fortnite Potessi Aspetta Come è che disse Quello La cosa dei denti Se i calciatori Avessero idea Una cosa così Ma magari Anch'io Giocando ai videogiochi Questo sarei milionario Invece no In fascia pubblicitaria Eccola qua Se i calciatori Avrebbero i denti Se i denti Fossero calciatori Vabbè Non facciamoci la testa Sto male ragazzi È possibile che Rufy Abba rivelato il sogno Mugiwara Proprio in quel momento Perché la churma È completa adesso A Karibu piace Questo elemento Prossimo Mugiwara Pensaci Perfetto E Vabbè Ormai Abbiamo totalmente Sbaccato Siamo in fascia protetta Facciamoci Facciamoci Prossimo Rereport Così Facciamoci Facciati Ci mettiamo il turbante Ci mettiamo il turbante Assolutamente Ehm Quanto sarebbe Infernale Se Vegapunk Caduto Dallo spazio In Fash Non è bene Fosse stato adottato Da Tsukimi A Karakuri L'alieno Fruttivendolo La famosa Bugia di Usop Se ti ricordi No? Una delle prime Bugie di Usop Non me la ricordo Quando era bambino Ci sono questi Piccoli sketch Di quando Gioca con I suoi amichetti E c'è il cerbero E c'è il drago Che è una lucertola E poi c'è anche L'alieno Fruttivendolo Tra queste bugie E io l'ho sempre associato A Vegapunk Questo alieno Fruttivendolo Perché Ah ok Ma io che cazzo Vengo a far fare Il quiz domani Esce una domanda del genere Vabbè No è solo su Wano Dove il quiz Ancora peggio Io me lo sono già dimenticato Cioè voi pensate Sto scrivendo Il saggio su Wano Ehm Mi ricordo già un cazzo Ogni volta devo andare a vedere I capitoli Di cui voglio parlare Perché mi dimentico tutto E quindi Sape proprio in mani A Napoli si dice Sta essere in mano all'arte Questa è la pubblicità Più terribile Che io potessi mai fare Però almeno A differenza di altri Sono sincero E quindi Voi lo comprerete tutti Perché tanto è una cosa Bestiale Potentissima Tanto è bellissimo Quindi Di che stiamo parlando È bellissimo Veramente bellissimo Ehm Ma i lunariani Hanno le fasce di asteroidi? Bah Oh Sicuramente Non hanno le fasce climatiche Perché sono sulla luna Basta Basta Direi che siamo Ma Proprio farti l'ultima domanda Prima di andare Hai visto che Poi alla fine Vegapunk È vestita come Uta Per me è Uta La scienziata Non baffuta C'ha lo stesso C'ha lo stesso C'ha lo stesso Cappottone È Uta La scienziata Non barbuta Uta punk È Uta punk È Uta punk Comunque ringrazio Nataku Che si è abbonato Ha detto Dopo 25 anni Di serializzazione Dimentiamo che One Piece È pensato È scritto per adolescenti Eccoci qua Credo vivamente Che bisognerebbe Viverlo Con la mente Di un giovincello Anche se Mega pipponi Mentali Che ci facciamo Noi vecchiardi Sono micidiali Io vi ricordo La mia reazione Quando è uscito Barba Nera Altro che Mente di un giovincello Mente di un mimo Di 4 anni Da questo punto di vista Sono totale Ma anche l'ultimo capitolo Io me lo sono proprio goduta Come se è un bambino Da quel punto di vista Meraviglia Ma ormai One Piece Io la prendo così Adesso Davvero A parte gli scherzi Secondo me Quando Il primo impatto Col capitolo di One Piece Deve essere quello Cioè lo devi leggere Sì Deve essere giocoso Lo deve essere giocoso Lo devi leggere davvero Con la mente di un bambino Poi Giustamente Come dite anche in chat Ci dobbiamo un attimo Monigrabbare E quindi L'analisi seria La controanalisi seria L'angolo delle illazioni Le controillazioni One Piece Deep E quindi Poi si fa di tutto Nervo un fascio Letteralmente E quindi Ma quello viene dopo La cosa principale I saggi Giustamente Come dicono Però Quello effettivamente Viene dopo Il primo impatto Deve essere Gli spot pubblicitari Il primo impatto Deve essere Giocoso Deve essere Gioioso Arrivano anche Di tre Sopra le righe Perché è una festa Ormai Diciamoci la verità Certo Il fatto che tutti Quanti noi Ormai Apparteniamo A questa sorta Di Religione Laica Per cui Ogni venerdì Ci riuniamo Insieme Per questa Liturgia È comunque Una festa È un gioco E quindi Deve essere Così Deve Deve essere Un qualcosa Di divertente Per tutti Poi L'ho detto Anche altre volte È una volta La settimana Un'ora La settimana Nemmeno 40 minuti Ma possiamo Per 40 minuti In una settimana Impazzire Giocare Impazzire Giocare No? Anche quello Secondo me È il bello Poi ognuno La pensa come vuole Naturalmente No Io sono d'accordo Sono d'accordo Anche perché C'è tanta merda Quindi Se possiamo ritagliarci Quell'oretta Di Ritornar fanciulli Facciamolo Volentieri Ma sì Ma poi Non mi sembra Che andiamo in giro A fare del male A nessuno Non puntiamo ancora La pistola La tempia Di nessuno Non Diciamo che Non mettiamo Il bavaglio Sulla bocca Di nessuno E quindi Perfetto Perfetto Quando potrò dire Di essere Un Come Gabriele Un Reduce Del mondo Di Un Sipario Allora Lì Sarà Un altro Secondo te Love Tale Sta nella fascia Di bonaccia Pensaci Pensaci Su questo interrogativo Noi ci Lasciamo Io ringrazio Incantevoli Criminali Che dice Volevo sapere Se la meloni È originaria Di bonaccia Eh vedi Ha capito Esatto E ringrazio Anche a King1NJ E diciamo Che vorrei Chiudere Questa Serata Dicendo Che Un melone Poco E due Sono troppi Bene Noi ci vediamo Domani Domani Alle 21 Sul canale Del Becker Raft Per Il One Piece Per il So per dire Per il One Piece Twitch Il One Piece Twitch Per il One Piece Quiz Superquiz Totale Dombale E chi non viene È un canjuro Ma Soprattutto No questa battuta Non la faccio Perché poi Dicono che sono Uno strozzo Vi vogliamo bene Forse Un bacio Bye Ciao 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 Ciao